Il controllo laterale, peso sulla schiena in modo che gli rallento i movimenti, abbraccio il bacino per evitare capriola in avanti, lui qua fa fatica a fare qualsiasi tipo di pesa. La mano che sta in underhook apre il bavero e con la mano destra vado ad afferrare lo strangolamento. A questo punto avanzo con la gamba destra a metterla intorno al suo caldo, da questo momento semplicemente mi alzo e passo la gamba più esterna davanti a lui, in teoria è questo e poi cado in quella direzione, nella realtà questa gamba non tocca terra e diventa tutto un singolo movimento, dove io mi ritrovo con lo strangolamento preso e lui non ha possibilità di difesa perchè le sue braccia sono fuori dalle mie gambe e quindi la sua difesa qua è estremamente inefficace, semplicemente continuo la rotazione e tiro la gamba destra a metterla. Il strangolamento è andato, stessa cosa, avanzo come il suo nage, solo l'ho schiacciato ed è andata male, sto già sopra, è la stessa identica cosa, sto scendo e lui si trova, fece del settore, sto giocando un visito. Grazie a tutti.